Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video e oggi siamo su A Dance on Fire and Ice per provare a fare l'ultima challenge del mondo 6 Sarà difficile? Si Ci provo lo stesso? Si Ce la farò? Probabilmente no, ma proviamo Dai, ce la posso fare Grazie mille cani che mi rovinano il gameplay Ok, vai Allora, sono al 37% Ok, bene, continuiamo ad andare avanti Comunque per chi non lo sapesse A Dance on Fire and Ice Ah, A Dance on Fire and Ice Cioè, da A Dal gioco A Dance on Fire and Ice Proviene la canzone Rush E Rush E è una canzone tipo Che in pochissimi giocatori del gioco hanno completato Ma che in molti provano a completarla Quindi Appena finirò il gioco vedrò Come fare Per andare su Rush E Perché ho guardato i livelli Non c'è nessuna canzone che si chiama Rush E E per fortuna che non c'è nella storia Perché se no mi sparavo Comunque mentre io parlo Io vado avanti Cioè, non è che metti in pausa Perché se no ho aperto il ritmo Secondo me tra poco muoio Cioè, io lo dico Mi sa che questo è un nuovo record Che roba è quella cosa Tipo tutto zigzag No No Sono morto Nuovo record Mi sa 71% Mi sa che è un nuovo record Ma dai Ma che sfiga E per comunicare Quando sto zitto O sto try and run Oppure non ho niente da fare Ok Siamo tornati nella parte più bella della canzone Secondo me Dalla lumaca blu Alla liper rossa Secondo me è una parte tipo bellissima Vabbè basta Smetto Perché non Non ho più voglia Non ho più fiato Ora try and run Basta la concentrazione Sapete qual è il bello? È che io ho appena detto Massima concentrazione Mi sono morto subito dopo averlo detto C'è l'ironia della sorte Mi sparo Tra parentesi Ai no Eh vabbè ma faccia cagare a sto gioco Basta Vediamo cosa fare Ah intanto Vabbè Vabbè dopo cambia colori Adesso provo a far questo Night wonder Knsokka remits Uh Bello Che è diventato Tipo tutto Bianco È nero Ecco La difficoltà Mi piace un po' meno Perché Non è troppo difficile Ma secondo me Non è neanche facile Perché c'è tipo Ste ruote Che vanno velocissime E quei cosi A triangolo Che in realtà Sono dei Delle specie di trapezzi Che danno fastidio Ecco appunto Ha perso Vabbè Vado a cambiare colore Nella skin No No Prima faccio questo Vai Ecco Basta Mi sono arreso Mi sono arreso Diciamo Andiamo a cambiare colore Della skin Dopo aver fatto O meglio Riprovato Questo Ho constatato Che faccio schifo Anche in questo Via Basta Ok Cambio skin Allora Facciamo arance Azzurro Ok Proviamo così Perché secondo me È il colore Che fa la differenza Perché il colore Non riesco a capire Se Mi confondo O no Ok Parte con tipo Le scale Tra poco Arriva la parte Dello schermo In cui si gira Ok Inizia a girare Come un pazzo Ma mi chiedo Il cartone di questo gioco Cosa che avevi in mente Per creare Sto abominio In realtà Il gioco Ci sta anche Come idea Però non ho capito Perché ci sono Due palle Non pensate male Per favore Ci sono due palle Che tipo Si incastrano In delle rocce E creano Un ritmo musicale Quello lì Non l'ho capito Perché non c'è neanche Una storia Sto gioco Tipo almeno Cuphead Si sa Perché affrontano Tipo tutti Quelli Con gli anime Del diavolo Massima concentrazione Io ve lo dico Che se muoio Probabilmente Non riesco più A tornare qua Quindi Provo a non morire E c'è la fine C'è la fine La vedo Dai Non morire Non morire No 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 92% No Però lì c'era la fine No Non lo accetto 92% Non lo accetto Sono arrabbiato Sono arrabbiato Nella parte Nella parte di prima Vediamo Questa volta Di non morire Come ripirla Là Nella parte In tipo Dove ci sono Tutti i zigzags Ok 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 Veloce C'è veloce Non posso deciderlo Io con la voce Ok Sono alla parte Del serpente strano Io lo chiamo serpente Sto cosa Anche se non è un serpente Se la posso fare Vai uomo Qui non si molla Uomo Qui si lavora Uomo Vai C'è la fine Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Dopo questa cosa Mi sento male Nel prossimo video Perché mi si è aperto per sbaglio questo Nel prossimo video Noi faremo il mondo 12 12 Aspetta se riesco ad andare al mondo 12 Farò il mondo 12 E proverò a finirlo Faccio i tutorial Quando finisco di registrare